Più di 250 bambini nati grazie alla scelta coraggiosa delle mamme e all'impegno ventennale del Centro di Aiuto alla Vita della Diocesi di Acerreale. Inaugurato nel 2004 dall'allora vescovo Monsignor Pio Vittorio Vigo, il corso del tempo ha ampliato la sua missione con l'apertura di altre sedi come Santa Venerina e Fiume Freddo di Sicilia. Realizzata persino una culla per la vita, moderna interpretazione della tradizionale ruota degli esposti che ha già accolto e protetto un neonato. L'obiettivo primario del Centro di Aiuto alla Vita è stato e continua ad essere quello di sostenere le donne che si trovano ad affrontare una gravidanza inattesa o indesiderata, offrendo un sostegno amorevole che include assistenza economica, medica, psicologica e legale. Un impegno a 360 gradi dal concepimento alla morte naturale e verso la difesa e promozione del diritto alla vita, organizzando corsi di formazione, dibattiti e convegni con relatori qualificati. A Giarre saranno due gli eventi in programma, venerdì 6 settembre alle ore 18 e 30, un convegno sul fine vita al Teatro Rex e domenica 15 settembre la giornata per la vita nella struttura Casa Betania a Montargano di Mascali. Grazie alla provvidenza abbiamo potuto aiutare anche centinaia di mamme che pur non avendo deciso di abortire avevano bisogno di aiuto, aiuto di tutti i generi, economici, medici, psicologici, di tutti i generi. Questo impegno profuso a favore della vita contro la logica della non vita che porta tanti che anche a causa di errori, di leggerezza, si trovano a tendere un bambino ad essere ascoltati, accolte e allora c'è il sì alla vita. Lo abbiamo sperimentato in tante coppie che poi vengono appunto anche assistite, coppie e non coppie. Ed è una gioia grande vedere poi questi bambini non solo venire alla luce ma anche come sacerdote gioisco nel dare loro il Santo Battesimo. Oggi tante di quei bambini che non ci sarebbero stati se non con l'impegno del Centro Aiuto alla Vita sono grandi, ci incontrano e sono ecco per grazia di Dio felici di essere uomini e donne del nostro tempo.